Ok, buongiorno a tutti e grazie per essere anche qui presenti in questa sala. Oggi iniziamo la nuova serie di talk del Next Friday Talk, quindi la serie a cui siamo soliti e ormai abituati ogni anno, ogni semestre in realtà, per un ciclo di incontri il venerdì in cui abbiamo diversi ospiti a raccontarci della loro ricerca, a condividerci della loro esperienza e oggi, essendo il primo come storia ormai, lo tengo io semplicemente per andare a raccontare un pochettino quello che è l'anno, il semestre di attività che ci aspetta all'interno del Next Lab, quindi il laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano, qui nel Dipartimento di Elettronica. Io sono il professor Sant'Ambrogio, ai più noto come Santa, e oggi sono qui proprio per parlarvi di quelle che sono le attività del laboratorio, anche perché per noi quest'anno è stato, e lo vedrete poi nelle slide, un anno molto importante che culminerà con un evento a novembre, e di quello che è il Next Camp, quindi una delle attività di formazione che vengono portate avanti all'interno del laboratorio, ma dal laboratorio verso tutti gli studenti del Politecnico di Milano. Ecco perché il sottotitolo del Friday Talk di oggi, che è una citazione poi di Nelson Mandela, It always seems impossible until it's done. Questo per noi è un pochettino un motto che ci guida nelle cose che facciamo. Alle volte bisogna avere un po' il coraggio di credere di stare facendo una cosa giusta e di lavorare perché si vada a compiere quello che è una nostra idea. Alle volte ci vuole un po' di presunzione, scusate l'uso di questo termine, ma non sempre i risultati arrivano subito, e solo perché non arrivano non vuol dire che la cosa che si sta facendo sia sbagliata. Anzi, alle volte c'è bisogno di attivare alcuni processi e questi richiedono tempo. Alle volte per poter lavorare in un determinato contesto bisogna anche andare a permettere alle persone che vivono quel contesto di riuscire a capire quello che si sta facendo e il perché sia importante. E quindi ecco perché oggi abbiamo avuto proprio questo piacere di condividere questo sottotitolo con tutti voi. Entrando un pochettino nello specifico di quello che poi è la presentazione, oggi è molto incentrata su quello che è il laboratorio, quindi sul NEXT, che è Novel Emerging Computing System Technologies. Questo laboratorio nasce nel 2012, ma nasce dalla riunione di altri due laboratori che erano il Microlab e il Vipilab. Il Microlab era un laboratorio di microarchitetture, si occupava di design di processori, di testing, di verifica, e il Vipilab era valutazione delle prestazioni in primis e poi nel tempo fondato dal professor Serazzi è diventato il laboratorio di sicurezza guidato dal professor Zanero. Quando ci siamo ritrovati ad unire questi due laboratori che erano ambo laboratori del System Architecture Group del Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano, abbiamo capito che una delle prime azioni che dovevamo compiere era quella di dare un nuovo nome a questa entità che si era creata. Usare uno dei due nomi non andava bene, non era giusto e corretto nel rispetto degli altri. I nomi alle volte sono solo nomi, ma altre volte sono qualche cosa di importante. E quindi ecco perché abbiamo deciso di chiamare questa riunione del Microlab e del Vipilab next, proprio come Novel Emerging. Ed è bello anche perché nel nome c'è un pochettino il nostro slogan, perché quando lo diciamo tipicamente viene scritto con la X, e noi lo correggiamo dicendo che no, il nostro X factor è CS, e quindi la computer science. Quindi ecco che in uno slogan, in un motto, in un gioco, riusciamo a dare subito un po' il senso di quella che è anche l'attività che svolgiamo qua in laboratorio. Un nome che è anche un pochettino un omatopeico. Non è un suono, ma è un'evocazione di quello che è next, di quello che arriverà. E qui racchiude un pochettino anche quello che facciamo quindi nel laboratorio, quindi il riuscire a lavorare con gli studenti di oggi per formare i professionisti di domani perché possano realizzare al meglio il mondo di domani tramite la loro immaginazione, ma non un'immaginazione legata solo al sognare, ma un sognare che grazie all'ingegneria, grazie alla loro capacità di realizzare cose, può essere effettivamente realizzato. Andando un pochettino avanti quindi su quello che è il nostro racconto di quest'anno, dobbiamo come prima cosa, prima di tutto, raccontare del Microlab. Il Microlab è stato fondato 50 anni fa, oggi compie 50 anni, quindi è stato fondato nel 1973, da una intuizione del professor Dad e della professoressa Sami che hanno mandato il professor Mezzalira ad una conferenza, era la prima conferenza in Europa sui microcontrollori e le microarchitetture, e da lì il professor Mezzalira rientrando spinge perché si creasse una realtà all'interno del Politecnico proprio su questa tematica. E da lì nasce il Microlab. Microlab che quindi fonda le sue radici ben 50 anni fa e che ha fatto crescere un sacco di studenti che oggi sono professionisti affermati in questo campo. e quindi noi avremo proprio piacere di vivere una giornata qua nel Dipartimento d'Elettronica, nel pomeriggio di giovedì 23 novembre, per andare a raccontare un pochettino quello che è la storia del Microlab. In realtà devo raccontare di un typo, di un typo voluto, ed è quella della data. Abbiamo scritto 23.11 perché il 23 di novembre, per i più attenti si saranno accorti, che è il giorno di Thanksgiving. E quindi è il giorno del ringraziamento. È il giorno in cui noi abbiamo deciso di dire grazie per quanto è stato fatto appunto nel 73 da chi ci ha proceduto nel fondare il laboratorio. Poi proprio però perché ci teniamo alla storia e ci teniamo a fare in modo che chi ha realizzato il laboratorio ancora oggi possa condividere con noi quei giorni, dal 23 lo abbiamo spostato in realtà al 30. Quindi vi aspettiamo tutti qui da noi presso la sala conferenza del Dipartimento dell'Elettronica giovedì 30 novembre, alle 5.30 inizieremo poi, alle 5 facciamo un momento di welcome e alle 5.30 iniziamo veramente con i talk e l'apertura sarà proprio da parte della professoressa Maria Giovanna Sami che ci racconterà l'idea dietro al Microlab e quella che è stata questa storia così avvincente che ci ha portato oggi a condividere con tutti quello che è stato fatto all'interno del laboratorio. Rispetto a quello che è oggi il percorso, quindi dal 51esimo anno del Microlab e oggi il dodicesimo di Next, vediamo un pochettino quelle che sono le attività che vengono ad essere svolte. In questo momento non parleremo principalmente di attività di ricerca, per questo abbiamo tutta una serie di successivi Friday Talk per cui quindi vi invito a continuare a seguirci live su Zoom all'interno della sala meeting del laboratorio nell'edificio 20 del Dipartimento di Elettronica in via Ponzo 34, qua a Milano, oppure poi sui nostri social media attraverso la condivisione del video che verrà poi trasmesso e reso disponibile online. Quello che andiamo a raccontare oggi sono quindi una serie di eventi che ci vedono attori nel nostro quotidiano. Partiamo con un hackathon come esempio di tutta quella che è l'attività che viene svolta all'interno del laboratorio nel percorso di didattica innovativa del Politecnico di Milano. Non abbiamo solo un hackathon, abbiamo tutta una serie di corsi hard o soft, sebbene questa divisione a me non piace tantissimo, ma riesce a dare un pochettino l'idea di quelle che sono le principali tematiche che vengono toccate. All'interno di quelle hard sono già iniziati i corsi di Biomedical Computer Vision, FPGA 101, Graph and Data Analytics e uno dei corsi che invece deve ancora partire è proprio questo su un hackathon in cui Arduino sarà un pochettino principe rispetto alle tematiche che verranno trattate. Per tutta la parte di corsi soft abbiamo invece le attività di pitch and talk, gestione dello stress, creatività grazie alla collaborazione con Aldo, Torre Bruno, responsabile della didattica per la scuola 3i. E quindi c'è un'integrazione reale con altre realtà del Politecnico come potrebbe essere per esempio per il corso di Employability col Career Service o elementi di impresa che quest'anno verrà riproposto in un'edizione più corta con quattro serate in cui avremo ancora la fortuna e il piacere di avere come ospiti per la seconda e la terza serata il Poliab e il TTO, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Milano. Questo è quello che al NEXT ci guida, fare cose che siano utili e che possono essere poi rese aperte a tutta la comunità politecnica e perché no, anche non solo, e magari arrivare anche oltre i confini del Politecnico. E per fare questo, questo non si può fare da soli, ma si può fare soltanto stringendo sinergie con altre realtà che ci permettono, grazie alle loro competenze, di andare ad avere un percorso, dei corsi, delle offerte, di eventi che siano sempre più vicini a quelle che sono le necessità dei loro partecipanti. Abbiamo il Friday Talk e quindi questo è una di quelle cose che state già vedendo attraverso questo momento. Partono oggi, il 29 di settembre, che non è il 2024, ma è il 2023 e termineranno, quindi hai voglia di fare NEXT, qua effettivamente sarebbe un po' troppo avanti, termineranno poi a giugno. A gennaio ci sarà un stop di corsi di questi eventi per permettere anche a tutti i ragazzi di riprendere un pochettino il ritmo dopo le vacanze invernali per la sessione d'esami e ci sarà uno stop a maggio per quello che è l'evento di NEXT Group Conference, ma di cui parleremo un pochettino più avanti. Abbiamo degli eventi sociali, uno di questi ve l'ho già raccontato, che era il NEXT GIVING, che è il giorno del ringraziamento, quindi ci siamo appropriati della giornata di NEXT GIVING e abbiamo una serie di momenti in cui ci piace ringraziare per quello che è il laboratorio, per quelle che sono le opportunità che abbiamo, per le fortune che abbiamo di essere una realtà all'interno del Politecnico. E quindi ci sembrava una buona scusa per passare un momento assieme e ringraziare per questo che ci è stato dato. Quello che siamo soliti fare è poi andare fuori a pranzo tutti assieme e quindi augurarci un bel Happy Thanksgiving e prepararci anche un pochettino a quelle che sono, io per primo so bene di quello di cui sto parlando, allenamenti, anche poi per altri eventi tipo la NGC. Questa è come la rete di collaboratori e di collaborazioni che vogliamo creare per le attività, anche quello che è un pochettino il fil rouge dietro a diversi eventi. questo è più in formato meme e ovviamente il legame tra il laboratorio e la NGC non sono i panini, ma le attività che vengono proposte e pensate dal Next anche per l'esterno, per chi fa parte del Next hanno un denominatore comune che è quello di un percorso, un percorso di crescita personale, di apprendimento e di ricerca che aiuti a mettere un pochettino in connessione i puntini, le bricioline lasciate lungo il cammino. Ci sono poi altri due momenti che sono quello del Nextmas che mima un pochettino il Nextgiving e il Next Winter e Summer Workshop. Momenti pensati proprio per incontrarsi fuori dalle mura del Politecnico in montagna tipicamente andiamo a Domodosso, sopra Domodosso dall'Alpe d'Evero per avere un po' di tempo per noi staccare da quella che è la routine e avere modo di fermarci un secondo e valutare quello che abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto e verso cosa stiamo andando. Tutto questo ci porta poi a non siamo un centro ricreativo, siamo un laboratorio di ricerca e quindi è evidente che ciò che ci guida sia la ricerca però è anche vero che la ricerca viene fatta dalle persone e dalle persone che non lavorano necessariamente da sole ma dalle persone che lavorano assieme quindi è per noi importante curare anche gli aspetti relazionali e sociali delle persone che fanno parte del Next ma mai perdendo di vista il motivo per cui siamo qua che è quello di fare formazione e fare ricerca e quindi alcuni eventi legati a questo sono per esempio il Next Resource Line Fair Event uno che sarà il 2 di febbraio 2024 e uno che sarà invece a luglio il 26 luglio 2024 e come vedete tra tonde c'è un'altra giornata che è immediatamente prima le date che vi ho appena proposto perché questo è presto detto il Next Resource Line Fair Event è un evento che noi utilizziamo per presentare grazie e tramite i ragazzi più giovani che stanno lavorando all'interno del Next Cam che è il progetto di cui vi andrò a parlare tra un paio di slide i loro lavori di ricerca e i loro lavori di ricerca raccontano quelle che sono anche le linee e le tematiche di ricerca che vengono svolte all'interno del laboratorio ora allora perché un evento il 2 e un evento il primo di febbraio beh perché il 2 di febbraio come il 26 di luglio questi eventi saranno dal vivo qui presso la sala conferenza del dipartimento di elettronica e quindi nuovamente se interessati potete seguirci su LinkedIn su Facebook o su Instagram nelle nostre pagine del laboratorio per avere poi informazioni a ridosso di questi eventi su come fare a partecipare mentre invece l'evento del primo di febbraio e del 25 di luglio sono eventi che vengono svolti online su Zoom in cui verranno fatti in inglese e non italiano come invece quelli del giorno dopo e sono fatti per arrivare a tutti quegli amici a quel network che abbiamo costruito negli anni di persone che non sono per forza qua in Italia e che sono in Europa negli Stati Uniti in Asia sparsi un po' in tutto il mondo e che hanno però piacere di essere aggiornati sullo stato di avanzamento dei nostri lavori e quindi ecco perché ci sono questi due momenti diversi la NGC andrà dal 25 maggio al 6 giugno più o meno ed è l'evento un pochettino di punta in cui non apriamo solo noi le porte del dipartimento e del laboratorio all'esterno ma andiamo noi fuori e quindi prendiamo e portiamo i ragazzi che sono pronti che possono presentare vogliono sfidarsi e possono sfidarsi ad un certo livello diverso di interazione e andiamo noi fuori nel nel mondo tipicamente si trattava di due settimane a San Francisco nel tempo questo è un pochettino cambiato quindi si è andati a San Francisco si è andati a Boston si è andati a Chicago e quest'anno invece torneremo poi in una di queste tre città ma ad oggi ancora non ve la spoiler perché sarà una delle slide che avremo più avanti quest'anno abbiamo anche la fortuna di riprendere o meglio di vedere già il consolidamento di questa attività che è la NGC Junior la NGC Junior è un momento fatto in Italia perché non c'è solo bisogno di andare all'estero per creare momenti di scambio e di relazione con realtà stimolanti anzi questa cosa può tranquillamente avvenire anche in Italia e quindi abbiamo creato abbiamo chiamato Junior semplicemente perché è arrivata dopo la NGC dove andavamo negli Stati Uniti quindi per differenziarla la NGC ed NGC Junior l'altro motivo per cui è Junior è che è su un periodo più piccolo mentre là sono una decina di giorni qui si tratta di tre giorni e in questo caso invece andremo a fare visita ai nostri amici tra Bologna e Modena a metà febbraio e quindi andremo in visita lì quindi anche questo se siete interessati e vi trovate in quelle zone non esitate a contattarci perché siamo più che felici di capire come rendere stimolanti quei tre giorni a febbraio come vi dicevo lo spoiler è arrivato molto presto perché come potete vedere a maggio 2024 torneremo a San Francisco e qui abbiamo la foto di una delle aziende che ci è stata storicamente tra le più vicine perché tra le prime che ci ha permesso di andare a visitarla e a interagire con loro in maniera diciamo da tutti e due i lati noi verso di loro e loro verso di noi proponendoci sfide di ricerca che abbiamo portato avanti assieme con collaborazioni nel futuro questo ci porta direttamente a parlare di Nextcamp Nextcamp è un progetto di didattica innovativa all'interno del Politecnico di Milano che lavora su e con molti immaginieri quindi da qui questa parola composita da tre parole il malti che è legato a uno presa una sola persona questa persona anche se sola e anche se ingegnere non vuol dire che abbia come unico e solo interesse quello dell'ingegneria ma può avere interessi differenti quindi ha tutta una serie di cose per cui è piacevole e interessante che venga a sfidarsi dopodiché c'è un discorso più ampio che è quello dell'immaginazione quindi l'imaging immaginazione che non viene solo a essere vista come capacità di sognare ma che viene a essere intesa come capacità di vedere e vedere quello che potrebbe essere il futuro domani che viene a essere realizzato grazie all'NG engineering engineering quindi non come titolo di studio ma engineering come modo di porsi voglia di fare rispetto a la capacità di realizzare quella che è la nostra visione delle cose quindi questo è Next Camp un Next Camp che parte da una domanda semplice che noi ci siamo fatti guardando un pochettino quello che era le cose che stavamo facendo e le sfide che stavamo affrontando perché la prima volta che siamo andati in Oracle ai tempi di Oracle Labs erano in realtà ancora Sunlabs perché era il 2012 era proprio quel periodo di transizione e non è stato facile è stato difficile mettersi in gioco con quella realtà perché per quanto le nostre ricerche abbiano valore per quanto noi si fosse capaci si sia capaci di presentare un conto è presentare ad una conferenza un conto è tenere una lezione un conto è andare a presentare in un headquarter di un'azienda e quindi c'era bisogno di qualcosa di più c'era bisogno di una formazione differente c'era bisogno di acquisire competenze differenti quindi c'era bisogno di mettersi in gioco questo mettersi in gioco era la risposta ad una domanda banale che è questa che cosa ci fa felici che cosa vi rende felici e questa cosa ce la siamo chiesta anche noi perché nessuno ci obbligava ad andare a San Francisco a organizzare un qualche cosa che logisticamente è molto complesso quindi perché farlo perché ci rende felici e perché ci rende felici perché nell'andare a San Francisco abbiamo scoperto anche questo bellissimo era una targa è una targa all'interno della serie di IDO make other successful questo è decisamente il nostro mandato questo è quello che mi anche a me per primo rende felice e poi anche qua è spettacolare perché gioca sul make che è il fare gli other che sono le persone e success successo è un termine molto controverso se vogliamo perché si tende a associare il successo a un conto corrente a un riconoscimento economico che se c'è ci mancherebbe dobbiamo tutti quanti vivere e mantenere le nostre famiglie ma successo è anche qualche cosa di più è un qualche cosa che ci porta a essere felici di quello che facciamo e quindi ci riconduce al move what makes you happy è un qualche cosa che ci permette al mattino di alzarci contenti di quello che andremo a fare è un qualche cosa che ci permette di non aver paura di sbagliare in quello che facciamo perché sappiamo che quella è un'occasione per poter imparare cose nuove questo per noi vuol dire successo e quando abbiamo la fortuna di avere degli others che sono studenti allora ecco che iniziare a chiederci che cosa voglia dire avere successo ci riporta il fatto che oggi siamo studenti ma domani potremmo essere professori e quindi potremmo trovare il nostro avere successo nell'accademia accademia che poi non vuol dire solo università può vuol dire mondo della formazione più ampio ma non è l'unico tipo di successo che possiamo avere potremmo essere studenti e qui abbiamo Marco Arnaboldi nel 2016 che oggi sono persone che lavorano in un'azienda e quindi pur essendo partiti tutti dagli stessi banchi nello stesso contesto dalla stessa scuola ecco che abbiamo un modo di vedere il nostro essere persone di successo in un contesto completamente differente ma non è solo così si può essere studenti e qui abbiamo Marco Rabozzi e qua i cattivi potrebbero dire che allora si devono chiamare tutti Marco Marco Sant'Ameloggio Marco Arnaboldi e Marco Rabozzi in realtà è stato fatto apposta come gioco questo e lui ha trovato modo di essere persone di successo con altre persone tipo Lorenzo Di Tucci e Sara Notar Giacomo e creare il proprio successo creando la propria start up Accelerate e quindi in questo caso abbiamo Accademia aziende e aziende costruite poi il caso di Accelerate è semplicemente uno degli esempi delle realtà nate nel laboratorio Arox Bottega 52 Sofia ben prima e oggi anche Genova allora il bello di questo è che mentre queste realtà sono nate un pochettino per caso per che c'erano dei ragazzi in gamba che avevano già quello dentro allora ci siamo chiesti ma non c'è modo di aiutare i ragazzi a supportare questi ragazzi nel riscoprirsi i professionisti in una di queste possibili uscite e nel supportarli nel mettersi in gioco e quindi nel validare le loro sensazioni e ipotesi rispetto ad una certa uscita perché entri al poli che sei potenzialmente una di queste tre cose il poli ti forma perfettamente da un punto di vista tecnico e ti offre anche diverse opportunità nel provare a metterti in gioco rispetto a una di queste opzioni o all'altra ma quello che a noi piaceva era quello di cercare di creare un ecosistema dove per costruzione i ragazzi dovessero esplorare e dovessero essere messi in gioco su se non tutti e tre almeno due su scelta loro di questi percorsi e quindi come facciamo a fare questo? Questo noi lo abbiamo fatto creando quello che oggi chiamiamo Nextcam che è un progetto che si chiama così semplicemente perché è iniziato all'interno del laboratorio riunendo tutta una serie di attività e riorganizzando tutta una serie di attività che svolgevamo già in laboratorio ma che oggi viene offerto a tutti gli studenti del Politecnico di Milano si basa su questa piramide che poi fondamentalmente è costruita su quelli che noi definiamo i tre pilastri del Nextcam che vendono nella sua massima realizzazione la ricerca evidentemente ma per diventare ricercatori indipendentemente dal fatto che si sia imprenditori che si sia persone che andranno ad essere assunti in un'azienda che si sia persone che rimangono nel mondo dell'accademia se siamo qui oggi siamo ricercatori questo è evidente siamo innovatori questo è evidente non sono cose che dobbiamo chiederci sono cose che sappiamo perché è così lo siamo perfetto ma lo siamo perché e come possiamo raffinarci lo facciamo grazie all'apprendimento e quindi ai corsi ai corsi per cui il Politecnico già è spettacolare per tutta la parte tecnica ma in alcuni contesti alcune cose possono essere aggiunte e il Politecnico in questo è stato pioniere in questa direzione e ha attivato quelle che sono le attività di Passion in Action e quindi tutta quella che è didattica innovativa su cui si vanno a installare tutta una serie di corsi che sono anche legati alla cura della persona perché qua noi lavoriamo con studenti quando diventeranno ingegneri più delle volte non saranno più con noi qua al Poli ma oggi abbiamo la fortuna di lavorare con persone e quindi ecco che qua citando un pochettino lo slogan irlandese noi possiamo tirare fuori l'ingegnere dalla persona ma non possiamo tirare fuori la persona dall'ingegnere e quindi quando mi chiedono ma perché come Poli come Next dovete prendere di cura di questa cosa è banale perché io devo lavorare per realizzare il potenziale di questi ragazzi come ingegneri come designer come architetti ottimi ma se non lavoro con la persona prima ecco che sto già mancando perché parto già in difetto rispetto al professionista che saranno perché quel professionista viene a essere costruito passatemi in termine sulla persona che si è oggi e quindi prima di tutto dobbiamo lavorare con la persona e come lo facciamo è io mi occupo di architettura dei calcolatori quindi ahimè ho cercato un richiamo di modello a quello che è il mio background e quindi una struttura a stadi a pipeline con fasi e come potete vedere nella prima fase c'è proprio questo mandato di esplorare quelli che sono i contesti ma come si esplorano a caso lasciamo una serie di attività lì e speriamo che gli studenti le scelgano in maniera oculata no allora ecco che qui entrano in gioco i pilastri di cui parlavamo prima l'apprendimento e quindi l'apprendimento è quel qualche cosa all'interno del quale noi offriamo corsi in passion in action che per i ragazzi che fanno Nextcam hanno un cappello ben preciso hanno una modalità ben precisa quindi se volete provare a esplorare il mondo dell'impresa si devono fare determinati corsi se volete esplorare il mondo dell'accademia dovete fare determinati corsi se volete esplorare la possibilità di mettervi in gioco nel campo dell'imprenditorialità dovete fare determinati corsi la parte che quindi diventa fondamentale è proprio questa l'organizzazione avere strutturato un percorso che permette sulla base di quelle che sono le volontà e gli obiettivi dichiarati in comune accordo con i partecipanti quelli che sono le offerte formative che da cui devono passare e questo è un po' il gioco come facciamo però a misurare le nostre competenze beh avessimo dei voti sarebbe facile quando noi valutiamo con dei voti valutiamo una misura puntuale in quel momento in quel giorno in quella storia sappiamo che vale x ma quanto tra un mese tra due mesi quando dovrai davvero usare quelle competenze avrai di quell'x allora non assolutamente quel numero è importante ed è una misurazione ottimale in questo momento di quello che si sta facendo e ci mancherebbe altro ma qui stiamo facendo didattica innovativa e allora abbiamo provato a mimare il grafico di CXNBI e a giocare sulla sfida come attività di ricerca e quindi come esposizione da parte di questi ragazzi ad attività in cui le competenze che stanno venendo ad essere apprese attraverso il pilastro della didattica vengono ad essere messe in gioco quindi non mi importa che tu abbia X mi interessa che tu sappia usare quella competenza quando richiesto e quando serve la magia di tutto questo è che in questo contesto sono alle volte i ragazzi stessi che ci chiedono posso rifarlo? posso tornare a seguire quel corso? posso non proseguire nella pipeline per esplorare per consolidare determinate cose? e questo è qualche cosa che è quasi sorprendente lasciatemi questo termine tutto questo poi si va a validare attraverso delle uscite delle prove quindi le prove che vengono a essere svolte nella prima fase sono mantenute all'interno del Politecnico di Milano ricordate il Next Resource Line Fair Event di cui parlavo prima? questa è una delle prove avviene qua quindi i ragazzi i partecipanti le ragazze che fanno parte del Next Cam vengono pian pianino esposte a non li prendiamo e li buttiamo li aiutiamo ad apprendere e a far crescere le sfide perché loro si trovino sempre al limite di perché trovino sempre le sfide adeguate a concetto di flusso di CXNBI quindi questo però avviene all'interno del Poli in questa prima fase e quindi ecco dove abbiamo delle uscite che vanno a mappare quelle che vanno a mapparsi poi specificatamente su quelle che sono loro volontà volevate mettervi in gioco con l'imprenditoria perfetto di sicuro dovete fare il Next Research Online Fair Event ma poi partecipare allo Switch to Product il networking di cui dicevamo prima con Poli volete provare a mettervi in gioco con l'Accademia perfetto grazie al lavoro che avete svolto si può cercare e ogni anno questa è un'attività che facciamo cercare una conferenza in Italia internazionale però con peer review in cui i ragazzi che sono pronti per possano mandare un proprio lavoro e anche qua la cosa viene fatta con un po' di attenzione ad esempio l'anno scorso abbiamo partecipato ad Eurocon una flagship conference di regione di IEEE a Torino perché oltre ad avere la parte di paper che sono stati mandati c'era anche tutta una serie di competizioni a cui potevano partecipare gli studenti come Dimo Competition come Business Competition e via dicendo e quindi tanti ragazzi eravamo una trentina hanno avuto modo di partecipare a questo evento nessuno dei ragazzi paga per queste cose questo per me è fondamentale questo fa parte di un percorso di didattica quindi la didattica deve essere disponibile a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco quelli che stanno sviluppando le competenze che ma non deve essere una questione economica non può funzionare in questi termini ecco come poi noi andiamo a rimappare anche su queste attività i pilastri apprendimento ricerca e cura della persona un esempio banale se io partecipo allo switch to product e ad un certo punto devo andare a fare il mio pitch per fare quel pitch devo aver imparato a comunicare devo aver imparato a gestire lo stress devo aver imparato che l'audience che ho di avanti non è un'audience necessariamente tecnica e quindi devo adattare la mia presentazione a e questa si parla di social intelligence si parla di stress management si parla del corso di pitch and talk che tra le altre cose abbiamo appena pubblicizzato o meglio comunicato perché le iscrizioni per questa prima edizione sono chiuse anche sui nostri canali ma di che cosa parli? della tua idea e quindi devi avere un'attività di ricerca su cui stai costruendo un'idea di business ma tu hai sviluppato questa attenzione verso l'imprenditoria l'imprenditorialità meglio scusate mentre stavi facendo questo percorso ed ecco perché allora il corso di startup one on one con l'ingegner Sanarico è stato fondamentale ecco perché l'incorso di employability col career service ecco perché elementi di impresa col TTO e con polia ecco quindi come non c'è la cura della persona è soft l'apprendimento è hard la ricerca sono lex no no siamo di più siamo malti ed ecco come questo malti si ritrova anche in questo discorso andando alla fase 2 quello che succede che è fondamentalmente mimiamo con attività differenti con azioni differenti quello che però era la fase 1 dove però in questo caso non c'è più un esplora a caso tutte e tre le possibili uscite che avevamo detto prima che sapevamo essere quelle legate all'accademia alla corporate o all'imprenditoria non è più così a questo punto c'è anche da parte dei partecipanti un'assunzione di responsabilità qual è quella su cui ti senti di investire di più e questo è il motivo per cui evidentemente nel fare questo non posso essere da solo ma sono circondata da una serie di persone spettacolari e super competenti nel loro contesto penso alla dottoressa Danna come psicologa penso alla dottoressa Romeo come nutrizionista per la parte di cura della persona penso all'ingegnere Alberti per tutta la parte anche legata al suo carriera sportiva e quindi la parte di coaching penso alla dottoressa Cremi ma penso all'ingegnere Torrebruno penso a altri docenti che con me stanno facendo questa stanno vivendo questa avventura come il professor Capone come il professor Magarini quindi ci sono tante persone diverse che collaborano per permettere a questi ragazzi e queste ragazze di vivere al meglio questa esperienza qui bisogna anche avere il coraggio ad un certo punto di fare assumere a loro responsabilità rispetto a avete esplorato ora scegliete la fase 2 nella prima parte dai fai all out e prova a investire realmente in quella direzione e l'ultimo livello della fase 2 è ora perturbiamolo un po' sono Mario anzi sono Marco e voglio fare il dottorato al Politecnico di Milano perché voglio fare la carriera accademica fantastico il contesto tutte le persone che ti hanno conosciuto per almeno un anno e mezzo prima ragioniamo e oh wow beh Marco è stato a Chicago con la UNC e è chiaro che la carriera accademica fa per lui però è sempre stato al Poli no perché è già andato via ok quindi e quindi proviamo a nel rispetto dei suoi interessi di ricerca e del percorso che sta facendo al Poli per la laurea perché mai perdere di vista quello anzi facciamola andare in azienda sei mesi di internship a consolidare competenze tecniche a rafforzare il suo lavoro di tesi rispetto a quindi non perdere nulla rispetto al suo percorso come studente del Poli ma allo stesso tempo per mettersi in gioco perché per vedere se davvero la carriera accademica al Poli potrebbe essere una buona exit per lui sono Marco voglio fare il dottorato al Poli perché voglio diventare docente super però Marco è di Milano è di Cinisello è mai andato fuori no quindi magari lo vediamo cavolo gli piace insegnare quindi ok accademia è giusto ma perché il Poli facciamolo andare sei mesi in MIT a Berkeley all'ETH all'Imperial a questo serve il network attorno ma così lo perdiamo non l'abbiamo mai avuto non sono nostri we didn't own them noi abbiamo soltanto la fortuna di lavorare con loro finché loro ce lo permetteranno ed è il nostro obbligo permettere a loro di realizzare il loro potenziale quindi se il loro potenziale si realizzerà al massimo se andrà a fare il dottorato in un altro Ateneo che sia così perché qua non ci stanno quelli che non si sentono sufficientemente bravi ci devono stare le persone che è qui che sanno di poter dare il meglio quelle persone che sono state esposte a un sacco di cose a un sacco di opportunità e che hanno ritrovato nel Politecnico di Milano l'opportunità giusta questo vale come poli ma vale per qualunque cosa le persone anche bravissime ma che fanno quello nel posto sbagliato non saranno felici e quindi in what makes you happy qua devono stare al Poli ma come devono andare all'MIT come devono andare in azienda a Zurigo piuttosto che a a Tongjin piuttosto che a Xi'an piuttosto che a Londra piuttosto che chi lo sa dove devono essere aiutati in questo gli deve essere permesso di provarci e prendere consapevolezza rispetto a quindi l'NL4 questo lo perturbiamo un po' per aiutarlo aiutarla a rafforzare la propria idea o per wow che bello che perché così ho avuto modo di sperimentare anche altro e questo è quello dove poi per esempio si innestano quindi tutte le attività di internship di visiting e la NGC diventa poi un momento in cui portiamo i ragazzi in giro rispetto a realtà dove possono misurarsi con entrambe le exit possibili imprenditorialità accademia e mondo industriale proprio per questo quindi per cercare di creare quelle connessioni che gli permettano di vivere un'esperienza fuori perché se qua poi è dove voi dovrete stare qua è dove starete tornerete e lo so io in prima persona bene perché ho voluto ritornare al poli perché qui era qui è casa mia qui è dove io mi sento a casa e qui è dove so che posso dare il meglio ma non sono sempre stato qua ma qua è dove voglio stare e quindi questo è un pochettino l'idea quindi anche quando cerchiamo di collaborare con altre realtà anche industriali c'è sempre un po' questa come dire questo timore dire vabbè ho capito ma noi collaboriamo supportiamo ma poi loro se ne hanno ma ragazzi io per primo lavoro in un laboratorio dove possono esserci dottorandi perché non dovrei tenerli tutti lì perché non ha senso perché devo lavorare con le persone che trovano nella realtà in cui si è la loro ragione per oggi di lavorare e poter realizzare il loro potenziale punto non perdiamo nessuno non abbiamo mai avuto nessuno questo qua è un pochettino quello che facciamo nel Next Camp questo è quello che è come le attività del Next Camp si innestano con l'attività di ricerca l'attività di formazione l'attività di cura della persona rispetto al rispetto dei ragazzi il cammino viene integrato all'interno di tutte quelle che sono le proposte in generale per gli studenti invece che fanno vivano lavorano e studiano all'interno del laboratorio e quindi ecco perché Next Camp e Next Lab due realtà molto vicine ma che non sono in sovrapposizione hanno un'intersezione comune assolutamente sì ma non sono la stessa cosa un qualunque studente può fare Next Camp anche se non fa parte del Next Lab tutti gli studenti che fanno parte del Next Lab passano per il Next Camp perché io per primo credo fortemente in questo percorso di formazione che possiamo fare all'interno di Passion in Action e quindi io vi ringrazio del 45 minuti che mi avete dedicato ringrazio anche voi qua in presenza non chiedo se ci sono domande perché c'era poco come dire che potesse favorirle era proprio una condivisione di attività rispetto a quello che facciamo ma rimane il che se siete interessati se vi abbiamo incuriosito un pochettino su quelle che sono alcune delle cose che facciamo in laboratorio o nel modello di didattica all'interno del Next Camp siamo assolutamente più che a disposizione per chiarire ogni vostro dubbio via mail per esempio contattando me direttamente o tramite i social media del Next Lab o passando qua dal laboratorio e bussando la porta non garantiamo in quel caso di essere sempre disponibili ma volentieri se si può un caffè lo prendiamo sempre assieme volentieri grazie ancora e buon Next Friday Talk da qui e buon 2023-2024 ciao a tutti grazie Grazie